Siamo con Mr. Vacca e Mr. Pecoraro, allora una bellissima vittoria, un gran primo tempo soprattutto, molto ben giocato, terza vittoria consecutiva. Lascio la parola a Mauro che se la merita perché per noi è un grande acquisto, un grande acquisto e sono contento di essere insieme a lui. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo giocato un ottimo primo tempo giocando la palla, ormai lo stiamo facendo da qualche giornata, quindi è diventata una costante. E niente, spero di continuare così perché c'è ancora tanta strada da fare, la salvezza è il nostro obiettivo, cerchiamo di arrivare e di realizzarci il prima possibile, però vedremo, se ci arriveremo al più presto, poi vedremo di toglierci le situazioni. Però adesso ancora una strada. Vi dichiamo la vittoria a Barilaro, il nostro preparatore dei portieri che ci dà una grossa mano, direi che comunque questa vittoria la dirichiamo alla società e a tutto lo staff. Perché veramente quest'anno abbiamo uno staff di altissimo livello, quindi a partire dal nostro tutto fare, Rocca, a Dalmazio, a Barilaro, il mister, tutti quanti. Quindi questa è stata una gran vittoria, cercata e voluta e niente, continuiamo così, tenendo sempre i piedi per terra. Siamo veramente contenti dei ragazzi perché anche oggi hanno fatto una prestazione da 10 all'8.